Con la posa della prima pietra si è dato il via nella giornata di ieri nel comune di Castellabate ai lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico e sportivo di Santa Maria, finanziato con fondi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per 4,5 milioni di euro. La posa di questa prima pietra rappresenta per tutta la comunità di Castellabate un momento di fondamentale importanza perché è un'occasione per tutti i ragazzi per far sì che le opportunità siano le stesse per tutti, avere gli spazi adeguati, avere la possibilità di accedere a tutto quello che la scuola offre attualmente, ma a causa di spazi un po' che ci costringono non è possibile andare fino in fondo, quindi veramente sarà per gli alunni la possibilità di raggiungere le competenze previste senza alcuna difficoltà, offrire soprattutto ai bambini che hanno bisogni educativi speciali, quindi famiglie con disagi sociali, le stesse opportunità di cui usufruiscono i bambini che invece sono più fortunati. E' questo che la scuola deve fare, è questo che la politica deve favorire proprio per rendere tutti uguali e far sì che i cittadini del futuro siano veramente cittadini che riescano a raggiungere vette altissime. La comunità di Castellabate, la scuola di Castellabate ha all'interno delle menti molto belle che vanno solo curate come delle piantine, quindi noi ci auguriamo che tutto questo possa verificarsi con la costruzione di questo nuovo polo. Un edificio moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato provvisto anche di un palazzetto dello sport e di un orto botamico. Questo polo scolastico nasce già dall'idea dal 2015, quando io ancora non ero in amministrazione, ma insomma è un traguardo importante per il territorio. Avrà quindi anche un orto botanico, quindi verrà curato anche l'aspetto estetico e proprio formativo a 360 gradi per i bambini. Quindi è un traguardo importante e speriamo di vederlo realizzato al più presto anche. Ci sono tante altre strutture scolastiche sul territorio di Castellabate, avete già pensato come amministrazione comunale quale sarà poi nel futuro la destinazione? In realtà diciamo che già abbiamo qualche idea. Chiaro è che io avrei piacere che comunque continuassero ad essere dedicati spazi dedicati ai bambini, magari perché no con delle strutture di formazione collaterale alla scuola, oppure strutture da dedicare alla formazione per i più grandi. Quindi continuare il filone culturale che hanno già rappresentato sul territorio e che continueranno, si augura, si spera, a rappresentare sul territorio di Castellabate. Quindi non ci sono progetti già concreti, però l'idea è quella di continuare a mantenere un po' la linea che hanno tenuto fino adesso. Un giorno speciale per sottolineare l'importanza dell'attesa opera pubblica, la scuola nascente che l'amministrazione di Castellabate ha deciso di intitolare al professore, già sindaco di Castellabate Raffaele Tortora, per onorare un rappresentante delle istituzioni stimato e amato dall'intera comunità. La comunità di Castellabate oggi vive questo momento importante perché un po' lo scolastico rappresenta la palestra per le generazioni future. La gioia è stata doppia perché poi porterei il nome di Raffaele Tortora per tutti Lello, prima amico, poi sindaco e poi professore. Noi, come dicevo, nel presentare Catina abbiamo fatto dei percorsi insieme con Lello. Dal 1993, quando ebbe la prima delega come consigliere delegato al turismo, 1996 sindaco, 2000 sindaco, e il suo percorso purtroppo è finito troppo presto. Le progettualità erano tante, aveva già tracciato delle linee importanti per questo territorio, delle innovazioni a cominciare dal corso Matarazzo con la valorizzazione dei centri storici. Purtroppo è finito troppo presto il suo percorso, come dicevo, prima come uomo perché Lello era prima un amico di tutti e poi un sindaco. Oggi è la massima soddisfazione perché un polo scolastico sportivo che porta il suo nome resterà una traccia per le future generazioni, una memoria storica importante, che Lello Tortora era un uomo importante che ha tracciato una linea importante.